Un saluto dal Tg della mobilità è in corso, lo sciopero proclamato dal sindacato USB in Atac e in Roma TPL. La situazione è servizio regolare per le metro A e BB1, è invece chiusa la metro C. Servizio regolare anche per le ferrovie Termini Cento Celle e Roma Nord, aperta ma con una forte riduzione di corse la Roma Lido. Per bus e tram possibili cancellazioni di corse o di linee. Lo sciopero, lo ricordiamo, termina alle ore 12.30.